Schiavon, questo campionato sta per iniziare, per te quest'anno forse una variazione di ruolo, oltre che pilone, anche tallonatore, come ti trovi? Ma è una bella prova perché devo mettermi alla prova e mettermi a disposizione della squadra in questo momento e credo che se mi impegno e lavoro come mi dicono ce la posso fare, sia possibile fare anche tutti e due. In passato da ragazza avevi già provato questo ruolo? Sì, a Mogliano avevano cercato di farmi giocare tallonatore, avevo un po' di problemi ma secondo me lavorando con il lavoro si migliora e posso fare bene anche nel ruolo di tallonatore. Manca poco al campionato, per ora amichevoli, una partita con Rovigo per la Coppa Italia, una buona prova e mi dice sono pronti a questo campionato? Sì, siamo una buona squadra, abbiamo tanto cuore, ci impegniamo un sacco e secondo me se miglioriamo quei piccoli dettagli possiamo fare ancora meglio e portarci a casa qualche soddisfazione quest'anno. E ora appena arrivato in prima linea Marin, un pilone argentino porterà la sua esperienza, la sua voglia di giocare, sta a voi farli integrare al meglio? Sì, noi cercheremo di farli integrare nel gruppo, speriamo che ci dia un buon apporto e ci dia quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, di un pilone destro forte. Grazie